Come mai le strutture assistenziali della riabilitazione del policlinico sono rimasti senza posti letto e dal tempo stesso gli spazi del padiglione B che dovevano andare proprio alla riabilitazione furono dati in concessione alla Nemo Sud, un centro privato di riabilitazione neurologica? Come mai il centro ha incassato DRG riabilitativi senza avere in organico alcun medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, un medico cioè fisiatra, o medico con anzianità di servizio in riabilitazione sostitutiva della specializzazione? Se lo chiedono i senatori Sileri, Guidolin, Leone, Arola, Turco e altri e lo fanno con un'interrogazione ai ministri della salute per la pubblica amministrazione con un atto numero 401531 del 3 aprile di quest'anno. Secondo i senatori firmatari dell'interrogazione un centro privato di riabilitazione neurologica quale il Nemo Sud ha sottratto spazi e posti letto alla riabilitazione aziendale e sottratto introiti alla stessa unità operativa aziendale del Policlinico di neurologie e malattie neuromuscolari. La vicenda segnalata dai senatori risale a luglio 2009 quando i vertici dell'azienda ospedaliera universitaria del Policlinico Gaetano Martino di Messina hanno provveduto ad azzerare i 18 posti letto della riabilitazione aziendale disattendendo le indicazioni dell'assessorato regionale per la salute che ne prevedevano al contrario un potenziamento. Non potendo così contare sui rimborsi regionali previsti per i ricoveri riabilitativi la riabilitazione aziendale del Policlinico ha così sofferto un consistente deficit annuale che somma fino a 900.000 euro annui con conseguente penalizzazione del corretto percorso assistenziale dei pazienti con gravi disabilità il crollo del livello qualitativo del percorso formativo degli studenti e medici specializzanti nonché il vulnus alla professionalità accademica dei docenti afferenti al settore medicina fisica e riabilitativa fino a vedersi negare nel 2017 l'accreditamento della scuola di specializzazione da parte del ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Parallelamente nel luglio 2011 per iniziativa del rettore dell'università degli studi di Messina dell'epoca il professor Francesco Tomasello e del direttore dell'unità operativa complessa di neurologia in malattie neuromuscolari del Policlinico nonché direttore del dipartimento ad attività integrata di neuroscienze il professor Giuseppe Vita nasceva la fondazione Aurora Onlus con lo scopo di svolgere assistenza in favore di persone affette da malattie neuromuscolari attraverso la creazione del centro clinico Nemo Sud un centro privato di riabilitazione neurologica che è stato allocato proprio dentro il Policlinico malgrado l'azienda fosse già in possesso di tutte le risorse professionali per garantire le stesse prestazioni pertanto mentre le strutture assistenziali della riabilitazione aziendale sono rimaste senza posti letto con tutte le conseguenze sopresposte il centro Nemo Sud si è visto attivare i ricoveri riabilitativi di codice 75 cioè quelli di neuro-riabilitazione codice allo stesso assegnato nonché destinare alle sue attività gli spazi individuati presso il padiglione B concessi alla fondazione Aurora Onlus a titolo gratuito per un periodo di 30 anni inoltre i senatori firmatari informano nell'interrogazione i ministri sollecitati sul fatto che l'incarico retribuito di direzione clinica di questo centro è stato sempre affidato sin dall'apertura ad un personale non in possesso dei requisiti previsti dalle norme sanitarie prima due docenti universitari sprovvisti di specializzazione medica, fisica e riabilitazione che risultavano anche incompatibili sulla base delle norme del pubblico impiego e in seguito ad un medico estraneo all'azienda universitaria di Messina che non possedeva tra l'altro i titoli sanitari per dirigere una struttura di riabilitazione neurologica qual è il centro Nemo Sud inoltre con una deliberazione del 12 dicembre 2013 il commissario straordinario dottor Giuseppe Pecorara ha assunto varie determinazioni tra cui il demandare al professore Vita il controllo e la verifica delle attività sanitarie previste nel progetto al fine di accertarne la correttezza degli adempimenti secondo questo ultimo incarico quindi il professor Vita controllava i suoi sottoposti in qualità di direttore clinico del centro Nemo Sud e a sua volta veniva controllato da se stesso in qualità di direttore dell'unità operativa complessa ruolo per il quale era soggetto ancora al controllo da parte di se stesso in qualità di direttore del DAI il dottor Giuseppe Pecoraro disponeva inoltre che le retribuzioni per le attività citate graveranno sul fondo aziendale produttività 20% a disposizione del direttore generale il 22 novembre 2017 è stata firmata una nuova convenzione per gli anni 2018 e 2022 tra fondazione e policlinico con entrata in vigore dal primo gennaio 2018 nella quale laddove si parla di tariffe previste per le prestazioni di ricovero presso il centro Nemo Sud sorprendentemente si fa riferimento a tariffe maggiorate che si riferiscono a soggetti miolesi che rappresentano quadri morbosi del tutto diversi e per nulla assimilabili alle malattie neuromuscolari che vengono trattate presso il centro in conclusione i senatori proponenti l'interrogazione si chiedono non solo su quale base normativa si è provveduto al raddoppio dei posti letto dei quali non c'è traccia né nella rete assistenziale regionale né nel decreto assessoriale del 2017 né nell'atto aziendale policlinico ma anche quale provvedimento ufficiale dell'assessorato regionale o della Giunta o del Presidente della Regione abbia mai autorizzato la prima assegnazione di posti letto pubblici al centro privato Nemo Sud che ha segnato l'inizio della penalizzazione delle unità operative e riabilitative aziendali i senatori chiedono infine se i ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto su descritto e se non sia imminente l'esigenza di prendere provvedimenti al fine di ristabilire il rispetto delle norme di legge all'interno del policlinico Martino di Messina